La mia giornata è a combattere quando voglio ammazzarla. Ma io non la metterei in questo modo. Se n'è andata con un altro. Non c'avevamo problemi economici, la riempivo di regali. Ma perché se n'è andata? C'è qualcosa che non va in me? Se c'è qualcosa non ci girare intorno, dimmelo. No, non ci giro intorno. Forse dovresti trovare qualcosa di importante con cui impegnare la testa. Sto sempre a pensare, ce la faccio più. Mi manca il suo modo di ridere. Qualcosa di importante in cui impegnarti. Mi manca il suo modo di camminare. Oh, mi stai a sentire? Ho detto che dovresti occuparti di qualcosa di importante. Chiesi! Mi ha scritto padre Danilo, dalla Bosnia. Una battaglia per la pace. Michele alla guerra. Un film di Franco Rossi. Un film di Franco Rossi. Grazie a tutti